Chi salva una vita salva il mondo intero, leggiamo nel Talmud, e chi salva una vita e salva il mondo intero è un giusto. Ebbene, anche Don Paolo Ligeri, proprio nei giorni scorsi, con una pergamena, è stato riconosciuto come giusto per quello che ha fatto nei mesi terribili dell'occupazione nazifascista a Milano. Don Paolo Ligeri è stato un prete della Compagnia di San Paolo alla Cardinal Ferrari, che tutti ricordano per delle imprese innovative e straordinarie come l'Istituto La Casa, il primo consultorio familiare in Italia, ancora oggi attivo e operante. Ecco, vogliamo proprio ricordarla, questa bella figura. Don Paolo è morto nel 1996, era già stato insignito dal Comune di Milano proprio della medaglia d'oro. Era originario della Sicilia, era nato ad Augusta nel 1911, ma era diventato sacerdote paolino proprio qui a Milano. E come dicevamo, durante il periodo terribile della Seconda Guerra Mondiale, aveva aiutato innanzitutto gli sfollati, coloro che avevano perso la casa sotto i bombardamenti aerei, poi aveva fatto un centro di raccolta informazioni per i soldati italiani che erano stati deportati nei lager dai tedeschi e poi ancora si era messo come ponte proprio fra le varie organizzazioni partigiane. E soprattutto nell'Istituto di Via Mercalli ospitava i perseguitati, ospitava i fuggitivi, i soldati alleati, gli ebrei. Tutto questo non passò inosservato. Don Paolo Ligeri venne arrestato dalle SS e in casa sua trovarono infatti 11 ebrei che furono subito deportati in Germania e non fecero più ritorno. Lo stesso Don Paolo Ligeri era condannato allo stesso destino. Fu prima interrogato, torturato nel carcere di San Vittore e poi per lui iniziò il calvario nei lager nazisti. Eppure in mezzo a quegli orrori, in uno straordinario diario di prigionia, Don Paolo riuscì a portare la fede, riuscì a portare la speranza anche a quei prigionieri disperati. Una volta tornato a casa, miracolosamente sopravvissuto, cominciò appunto quest'altra straordinaria avventura dell'istituto alla casa. I nazisti l'avevano marchiato con il triangolo rosso, che era il simbolo destinato ai più pericolosi nemici del Terzo Reich. Sì, perché Don Paolo Ligeri era proprio un ribelle, un ribelle per amore. Grazie.